Allora sono tornato e mi sono imbattuto in un'altra title station come avete visto nel video che vi ho messo prima e al più interno nella title station ci sono tutti questi giochi con... Allora se guardate e osservate questo gruppo si vede che sono dei salami men cioè sono vestiti in maniera non troppo informale hanno le borsette da lavoro e sono tutti insieme in comitiva. Allora come vedete sono tutti qua a giocare insieme per cercare di prendere i peluche. Ora io penso che sono delle persone mediamente intelligenti come lo sono io quindi l'unica spiegazione è che questa è la loro cultura e io non la potrò capire mai non essendo giapponese. Per loro è normale venire qua cinque persone adulte mettere il gettono e una macchinetta per vincere un peluche. Ecco ci riprovano ma mi sa che anche questa volta niente gli ha fatto la carezza quindi ricapitolando siamo qui alla title station come vedete qui entrano mezzi brilli anche no i piantarelli di questa title station vi ho fatto vedere gli altri piani è tutto fatto con queste con queste macchinette mangiasoldi